L'amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue anche adesso che si sono spenti i riflettori del grande fratello VIP e sono sicuramente una delle cocchie più amate del mondo dei social. I due, in questo momento, si stanno alternando tra le due case, quella di Rosalinda e quella storica di Ndrangheta Zenga. Andrea e Rosalinda hanno condiviso diversi momenti social con i loro tantissimi fan e nel fine serata, Andrea Zenga ha preso visione giro Rosalinda. Nel dettaglio, durante la serata del 15 maggio, Andrea Zenga ha fatto una diretta con il padre Walter e Gianluca Pagliuzza, storico portiere dell'Inter. Finita la diretta, Andrea Zenga ha fotografato Rosalinda addormentata, che in teoria doveva aspettarlo per guardarsi un film assieme. Ci guardiamo un film dopo la diretta? Sì! Rosalinda Cannavò si vendicherà di Andrea Zenga?